E latte d'avena. Anche questo è l'azomano. Abbiamo rosso, rosa, viola e giallo. Ciao. Come stai? Che bello che ti abbia fatto ritorno qui da me. Sono contentissima che il servizio all'altro modo ti abbia soddisfatto. Allora, dimmi, 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 oggi sei qui per... Ok, un bel trucco. Benissimo, con i miei prodottini speciali. Ok. Allora, prima di tirare fuori i trucchi, 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 trucchi. Ti chiedo se hai voglia di qualcosa da bere. Posso avere del tè, posso avere del caffè, posso avere anche uno snack se vuoi. Ok. Sì, come vedi, ho fatto un upgrade della macchina del caffè. Ok, allora intanto ti offro qualcosa, va bene? Eccoci arrivati nella zona bar. Ti faccio scegliere che caffè vuoi. Ti posso soffrire? Ti posso soffrire? Ma ne prendo? Un iced iced coffee. Un cappuccino. Ma anche io a tuo col latte che desideri. Anche una bevanda vegetale, se vuoi. Poi ho un caffè lungo americano. o un espresso classico ti faccio un cappuccino, un caffè macchietto questa è la nostra macchietta del caffè come vedi ha il macchinario in cui metti i chicchi di caffè vedi c'è il caffè un posto, no è l'altro ok e qui posso farti anche la schiuma ti faccio una tazza da asporto così puoi te lo tieni vicino ok? adesso lo rio ok adesso ti faccio scegliere il latte abbiamo il latte classico poi puoi scegliere fra queste bevande che sono tutte fatte in casa da noi abbiamo il nostro latte di soia abbiamo il nostro latte di soia latte di mandorle queste sono mandorle pugliesi e il latte d'avena anche questa la facciamo noi tutti e tre fanno la schiuma quindi dimmi semplicemente te facciamo mandorle ok? 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 fantastica scelta avrò un sapore divino e lo metto ed ecco qua il tuo cappuccino con il latte di mandorle ti ho fatto anche questo disegno scusami il bottiglino ti metto anche la protezione in modo che tu rischi di scattarti e a te ti posso chiedere anche se vuoi uno snack abbiamo a disposizione oggi barretta bene cioccolato buonissima è tutto fatto da noi brownie con gozzi cioccolato amo il cioccolato si vede si senti pure buonissima cookie al cioccolato stile americano oppure cookie con fiocchi d'avena e mirtilli ti piace questo? ok anche questo a te bene adesso direi che è arrivata l'ora del trucco allora spero che il caffè latte il cappuccino e lo snack sia nato a fare il tuo gradimento mi piace del me tantissimo anche ricevere un parere onesto da te senza paura perchè ovviamente qui ci vogliamo sempre migliorare quindi non ti preoccupare ti piace? andiamo a posizionare tutti i trucchi ecco l'io di qua e un momento e un momento qui e lo specchio qui dietro useremo la fine ok non c'è più niente non c'è più niente qui dietro useremo la fine non c'è più niente vado a tirarti un pochino sui capelli con questo elastico ho troppo bellino ok prendi i capelli da questa parte ok perfetto adesso che i tuoi capelli sono indietro posso cominciare? cominciamo dalla base da un po' di fondotinta guarda che bello questo disegnino questo è un fondotinta liquido quindi ne metto un pochino sul palmo della mano prendo il pennello prendo il pennello e vado a distribuire e vuoi ira questo fondotinta è un pochino aperto bellissimo e allora la è un pochino e che è un pochino e per un pochino e allora anche un pochino sui lati ok benissimo dopo questo bel fondotinta andiamo 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 è un trucco semplice comunque ok andiamo 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 con poi prima fare il viso agli occhi facciamo il viso ok andiamo con questo doppio prodotto questo doppio prodotto è molto particolare perché da una parte è blush dall'altra cipria qui ho la cipria e qui ho il blush quindi andiamo prima con la cipria andiamo fanno un po' sulla fronte che la zona sembra un po' da tenere sotto controllo il mento il naso e un po' anche intorno al naso ok quindi hai soprattutto la zona di molto bene poi adesso blush questo blush ti sembra molto chiaro ma in realtà andrà un pochino ad adattarsi al colore della tua pelle grazie al tuo pH quindi andrà ad armonizzarti quindi andrà ad armonizzarsi ad armonizzarsi col colore della tua pelle posso parlare ok ne basta poco ok perfetto adoro troppo questo prodotto perché la tina in borsetta ti aiuta sia a tenere sotto controllo il lucido sia a dare un po' di colore alizio questo 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 è la mia palettina la mia palettina è la mia palettina è la mia palettina qui allora abbiamo 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 rosso rosa viola e giallo 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 ovviamente io posso anche mixarli e creare nuovi colori quindi vuoi un po' di verde, vuoi un po' di arancione posso farti tutto allora io pensavo a poi dimmi te se ti piace a una valpera rosa un po' gialla e un po' rosa e un bel eyeliner viola ok, quindi facciamo tipo giallo qui all'interno ok, non ho chiudere gli occhi ancora ok, adesso chiedi l'ipore prendo il rosa e voglio distribuirlo direi l'ipore direi l'ipore tieni chiuso ok, stupendo apri un attimo e li chiudi che faccio anche l'altro occhio ok, lo sfumo un po' con il giallo e vado un po' verso l'esterno ok e verso meno l'occhio ok, benissimo adesso prendo questa matita metto io questa prendo questa matita e adesso intanto se la metto all'interno dell'occhio sulla palpebra superiore e poi la intingo un pochino nel viola ti faccio l'eyeliner tipo il mio quindi ok allora guarda in alto scusami in basso e anche dall'altro lato rimembo anche sotto poco a poco ok eyeliner ok Ok, io non me la metto in casa la luce Perfetto Mettiamo anche gli ombretti E adesso direi che ci manca Mascara Mascara, mascara, mascara Rossetto Prima metterai il mascara Questo mascara mi piace tantissimo perché fa le labbra, fa le ciglia Super, super, super definite Deliera doppia replica Ok Mi vado a passarlo Ti ammi gli occhi Così Semi chiusi però un pochino perdi Ok In questo modo riesco perfettamente a prendere anche la notizia delle ciglia una punta anche sotto e abbiamo fatto cambia veramente tutto con il mascara è incredibile la differenza che fa ultimo, ultimo step è rossetto anche questo in realtà si adatta al pH delle tue labbra quindi non ti preoccupare se ti sembra troppo caldo troppo rosso, no, sarà perfetto per te vado Mettimi le labbra, tipo così, un po' tirate, un po' sorriso, tipo, e vado. Ok, ho messo giusto un goccio perché secondo me sta bene così, un pochino luminoso, un pochino più naturale. Allora io ho finito, voglio solo toglierti un attimo, ok, l'elastico, ti sistemo un attimo, ti sistemo anche un attimo i capelli. Ok, giusto proprio per questo martedì, che sia un po' che ti avevo fatto. Ok. Io direi che ho finito, intanto ho detto che ho finito anche la tua bevanda e il tuo snack. Io spero, davvero con tutto il cuore, che tu abbia avuto una bella esperienza qui anche questa volta, che tu decida di tornare presto. Ma grazie a te. Ciao, buona serata.